Questo è Oma, se non muore, per tutta la vita di Oma, da passare il colore, la lucentezza, la lupida pesantezza. Mi lancio in qualsiasi impresa che possa alimentare la mia riserva, che è già considerata. Mi ho perfettamente convinto grazie a tutti i costruzzi, nel gabè e nelle sue battute di spirito potrebbero essere le utili.